ciao sono alessandro mencivenni e questo è il canale youtube di prof digitale dopo la pagina facebook l'account twitter ed il canale telegram finalmente arriva anche il canale youtube dove troverete le pillole del prof ovvero dei momenti di formazione condensati in pochi minuti interviste video recensioni e tanto altro ancora quindi se volete rimanere informati sulla scuola che cambia ed entra nel ventunesimo secolo iscrivetevi al canale e rimanete aggiornati vi ringrazio a presto